Controllate l'equipaggiamento! Gli aerei si stanno preparando allo schieramento! Nemico in discesa nell'area operativa! Il divertimento è finito! Si va nella zona di guerra! Il divertimento è finito! battle royale avete gas in avvicinamento andate alla zona sicura contratto sciacallo individuato contratto sciacallo affermativo ostile in discesa nella bersagli disponibili al lavoro mi metto io ai comandi colpito scott 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 Cassa di scorte marcata, recuperiamola! Prossimo obiettivo localizzato! Mi metto io ai comandi! Movimento! Un team nemico vi sta braccando, occhi aperti! Obiettivi aggiornati! Passare alla prossima area! Perdo i comandi! Arriva i gas! UAV nemico in volo! Mi metto io ai comandi! L'ultimo principale raggiunto! Tutte le casse di scorte trovate! Il piloto io! Denaro, affermativo! Arriva un lancio d'equipaggiamento! Siamo nella zona... Prende i comandi! Tenetemi un posto! Contratto taglia identificato! Bersaglio taglia disponibile! Diamoci da fare! UAP alleato in sormolo! Abbio scansione radar! Ho marcato un elicottero! Prende i supporti! Vesposto ancora di tappi! Unan Italia! Caracolo, trascende! Unan Italia! Bersaglio disc view! Unan Italia! Lo so ו many פ¬3q! Tutto a punto. Resisti. Siete salvi. Avete seminato gli inseguitori. Contratto taglia identificato. Contratto taglia identificato. Bersaglio taglia disponibile. Diamoci da fare. D'envito. D'envito. Ok. UAP alleato in sorvolo, avvio scansione radar Lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo Gassi in arrivo, alla nuova zona sicura Ricognizione attiva Qui Jaguar 3-0, confermato, pattugliamento UAV iniziato Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento UAV nemico in volo Bersaglio marcato Gassi in avvicinamento In movimento Tempo scaduto, obiettivo fallito Siamo nella zona sicura Movimento Riposizionamento Gassi in avvicinamento Gassi in avvicinamento Gassi in avvicinamento Bersaglio taglia identificato Fatelo fuori Taglio taglia eliminato Ben fatto Gassi in avvicinamento UAP alleato in sorvolo In movimento, come non detto Abbio scansione radar UAP nemico in volo Gassi in avvicinamento Gassi in avvicinamento Gassi in avvicinamento Corazzo in avvicinamento Corazza, qui Gassi in avvicinamento Gassi in avvicinamento Movimento Movimento Gassi in avvicinamento! Dirigiamoci verso la zona sicura. Il bersaglio ricercato è K.O. Ottimo lavoro! Corazza, qui! Mi muovo. Cambio posizione. Annullare. Versaglio marcato! Mi muovo. Versaglio. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.